Campagne prese d'assalto da malviventi in piena stagione olivicola, aria resa irrespirabile a causa dei sempre più frequenti reati di natura ambientale e anziani aggrediti in casa da topi d'appartamento, rapine che in alcuni casi si trasformano in tragedie. C'è preoccupazione ad Andrea dopo gli episodi di criminalità che si sono registrati negli ultimi giorni e che riportano alla luce il problema della sicurezza. A lanciare l'allarme è lo stesso sindaco della città federiciana, Giovanna Bruno, che attraverso un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook fa il punto della situazione ribadendo anche la sua volontà di chiedere l'intervento dell'esercito, in linea con quanto richiesto anche da Coldiretti, per supportare le forze dell'ordine nelle attività di contrasto ai fenomeni criminali. Rendiamoci conto che la nostra città vive tante emergenze, ha bisogno davvero di una presenza massiccia dello Stato ed è il motivo per cui io reitero in continuazione il richiamo all'esercito non per militarizzare la città o le campagne, ma perché davvero abbiamo bisogno di moltiplicare le forze, le presenze. Per questo lo faccio, sono convinta di questa richiesta e continuo a reiterarla. Intanto, un grosso aiuto in questa battaglia per la legalità arriverà sotto forma di finanziamento grazie ad un bando del GAL, le città di Castel del Monte. 150.000 euro saranno messe a disposizione dell'amministrazione comunale per l'acquisto di droni da sorveglianza remota e di altri apparati tecnici per il controllo del territorio, in particolar modo nelle periferie e nelle campagne. effettueranno azioni di sorvolo anche a lunga distanza, trasmettendo in tempo reale le immagini alle sale operative delle forze dell'ordine. Siamo alla ricerca di qualunque tipo di finestra economica, di finanziamento, di qualunque cosa che possa andare a colmare purtroppo le carenze economiche che come ente abbiamo e che non ci consentono di fare degli investimenti importanti in tema di sicurezza. Ma su questo tema sono in prima linea e siamo come amministrazione desiderosi di prestare la massima attenzione cercando di arrivare a risultati concreti.